Hi bros, io sono Pezzo e oggi sono qui in compagnia di Mordug Ciao ragazzi E siamo qui per provare un nuovo Minecraft minigame Un minigame horror, vero Mordug? Eh si Com'è che si chiama? Entity ragazzi Allora, il minigame di oggi lo abbiamo fatto in compagnia di alcuni amici che Mordug ha chiamato Questo perché il server non è molto frequentato Però il minigame che me l'ha fatto scoprire Mordug vale davvero tantissimo E' un minigame horror, stile, non lo so, Slenderman Sì una sorta, in pratica c'è un'entità fantasma che è una di noi, una persona di noi E praticamente dovrà uccidere tutte le persone che sono all'interno del labirinto Fantastico, mamma mia, proviamolo subito perché è bellissimo In descrizione trovate l'IP del server e intanto vi invito a passare dal canale di Mordug Che trovate nella descrizione Vieni a Angir, cerchiamo di arrivare almeno ai 1500-2000 like per questo fantastico episodio Dai, cominciamo subito Perfetto, ci siamo, siamo pronti, mamma mia Sarà un po' una cosa difficile perché io non ci ho mai giocato quindi non so proprio com'è Allora, spiegami un attimo velocemente e spieghi ai nostri amici a casa com'è questo minigame Allora, questo minigame funziona così Uno di noi diventerà l'entità che sarà invisibile agli occhi degli altri Solo quando toccherà e ucciderà i villageri Che saremo noi in pratica, i villains Praticamente diventerà visibile per un tot di tempo Bisogna sopravvivere per 200 secondi circa Wow, porca Eva, quindi non è abbastanza facile Ok, ci proveremo Siamo civile Sì Oh mamma quanto è scuro Noi andiamo a caso, vero? Non dobbiamo prendere risorse o niente? No, dovrebbero spawnare dei bonus ogni tanto randomicamente tra di noi Ah ok, perfetto Questo è il periodo di tranquillità infatti Mamma mia, è troppo buio Ma se andiamo al centro, cosa c'è al centro? Eccolo L'entità è stata spawnata Ok, stiamo attenti allora Ma spawn al centro lei mi sa Sì, lei dovrebbe messo a spawn al centro E noi siamo liberi per la foresta Oddio Ah ma c'è una foresta? Sì, siamo a un foresta Tutto sta al deserto da spawnato dell'A Eh sì, caspita, ecco perché Allora arrivo Oddio, il suono è alto Ma che ansia sono sti suoni Madò, che ansia Ok, abbassa un po' la musica io se no Quanto ansia mettono? Sì, senta panico È troppo bello Oddio Il brutto è che non posso tenerlo troppo alto Perché sennò voi non sentite più nulla Quindi devo cercare Oh, ho ricevuto l'oggetto misterioso Tu? Che bello Rollercoaster Oh oh, oh oh Ma come? Oh oh, mi sa che l'oggetto misterioso era una cosa negativa Eh, eh, infatti Oh Ok, era solo la musica Mamma, che ansia La musichetta è da panio, eh Mamma, ma sono fantastiche Perché sono tranquille Proprio nelle parti giuste Poi improvvisamente ti mettono agitazione Fai conto di tanto c'è sta una voce che fa? Eccola Oh Ok Ok Eh, di già? Perché abbiamo vinto? No, è uscito il tizio No Ma dai Fammi un'altra Ah no, è caduto Mi sa che è morto lui No, si è suicidato Serio Ok Ci siamo ragazzi Abbiamo scelto un'altra mappa adesso Purtroppo Prima non è andata molto bene Il cacciatore L'entità È morto Non si sa come Non l'ha spiegato Ah sì? Alla fine si è suicidato Lo volete sapere? Qual è la cosa brutta? Che io sono l'entità No Oh porca Questa è troppo brutta Ah ho capito perché è morto il tizio Come? È perché l'entità ha un effetto oscuramento intorno E quindi non vede Al di là del suo naso Oh Ho ucciso uno Di già? Oh Due No no, aspetta Aspetta Vediamo No mi senti in ansia Mi senti in ansia C'ho un po' di cascate sotto io Ma perché tu non vedi quello che è davanti? Eh C'ho effetto oscuro intorno Vedo soltanto io sotto i miei piedi Ciao amico Joker Corrivo via C'ho da scappare Oddio Oddio Qua c'è il vuoto Madonna mia che ansia È che non riesco a vedere dove sei quindi Io non riesco a vedere dove sto andando Quindi pensa Ma quanti Ma siamo solo in due lo sai? Oh quindi siamo rimasti io, te e un altro? Io e Jokes Oh Jokes Ragazzi Cioè Mister Item di nuovo Io non ho ancora ricevuto un Mister Item Che pacco E devo dire che È vero Io non ho ricevuto niente Che noia Che noia Ma non riesco a piave Aia Sopra dei legni Non riesco a riuscire a riuscire da qua Mi sa che avete vinto raga No No Corri Corri lì Via Mi so perché Oh Ho ucciso No 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 Dove stai? Oh Via 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 No Porca Uh Eri lì Eri sui legni Mamma mia Perché ti si vede quando è la persona Sai che sei rimasto solo tu? No 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 C'è qui anche Jokes Ah Ho visto che era Sarà streccato No Non è morto Tanta E vanno a vincere No Sì Maledetti Ah come c'è il Deathmatch Oh Deathmatch Ah io non devo picchiare Se ti venga a prendere Oh Ho visto una scia rossa Eri tu Oh Io ho visto qualcuno Psst Oh Oh Eccolo Dove sei? Eccolo Non lo so Non lo so Non ti vedo Uh Eccolo No Sì Ti hai vinto Sì io Ho vinto io Ti ho ucciso Sì Andiamo No Non ci vedo Uh Civilization win Ok ragazzi Facciamo subito L'ultima partita Di Entity È divertente Da giocare con gli amici Perché Bordo un capo Intanto È vero La rivincita Perché l'ultima volta Avevi vinto te Questa volta Ho vinto io Infatti Vediamo però adesso Che arriva per ultimo Io sono un civile adesso Quindi Anch'io Vabbè Quello che sopravvive Vince Facciamo così Ok Allora Ancora Io non so Sicuramente adesso C'è l'Entity Che è Non è uno dei nostri Sicuramente Perché Ah sì è vero Oh Ok Però io ho paura Che sia qua Perché di solito Quello lì Spawna sui legni Almeno prima Prima siamo spawnati Sopra la sabbia Sì Poi sono arrivato sui legni Il problema è che i legni Sono pericolosi Eh Oh Dove 1074 Guardate le coordinate Mille Sui legni Oh oh Quindi sta in zona No Non sui legni Non sui legni Sì È sotto Dove c'è il deserto È nella conca del deserto Aspetta C'è qualcosa che non va È salita È salita L'entità è a mille Che ho fatto C'era un buco C'era un buco Ci sono caduto dentro Ciao Non ci credo Ce n'era uno Uno solo del buco Vai capito Ma porca Eva Vabbè per guardo Eh sì sì È nell'isola Però bisogna vedere Chi ammazza Se ammazza qualcuno Almeno sappiamo Lo sta Perché Non credo Ammazzi persone Cos'è molto Allora Ripartiamo Sighetta Alfa Alfa Imperfetto Se 404 No Adesso Ebbè Errore 404 Mamma mia No ma secondo me Non si fa vedere Oh Oh senti Non sono È morto qualcuno 1099 188 Meno 2199 Vado a vedere Vado a vedere Io me la do De corsa E me ne vado Sopra i legni È morto Sulle scale Esattamente Qua Quindi sta salendo E c'è qualcuno O sta andando a seguire A me però Non vale così No ma non ti prende Non ti prende Perché Se ha anche blindness Non vede bene Quindi non ce la fa Io il ponte Sai quante volte Rischiare di cadere Mentre Mi eseguivo Vabbè È che se cadi Quanti cuori hai Eh c'hai due cuori Il problema è che cadi nel vuoto Muori Ah porca Oh mamma mia C'è anche il L'entità può morire Da quello che ha capito Nel vuoto Oh Pure i fulmini Ah perché qualcuno Ha usato Il fulmine Ok Ah Ha visto praticamente La posizione Della Della entità Oh Io non li posso Sentire questi suoni Madonna mia No Sono cascherate sotto Anche lui Appianca il ponticello Di legno Porca Eva No Sei secondi No Non ci credo Non ce l'ha fatta neanche mordo Mi sono fatto Pia dalla paura Della musichetta È rimasto dragonotto Ah eccolo qua Eccolo Eccolo È qui il tizio Mi sa Che è questo qua No questa è la ragazza È il tizio Beh ha ammazzato Ha ammazzato i tipi qua vicino Ah è rimasta solo Sta alfa Che si è nascosta In maniera perfetta Proprio tattica E però Quello di fianco a lui È morto Quindi vuol dire che Sì però Non hanno visto lei Possibile Ah posso entrare Nei corpi dell'altro È vero Che figo Che figata E non mi ha neanche Entro dentro al colpo De alfa io Della ragazza Anch'io sono entrato Dentro il suo corpo È bellissimo Dai però lei sta qui Che palle Però ma si è nascosta Olè Bam Hanno vinto i civili Anche questa battaglia Povera entità Non ne ha vinta neanche una Eh sì Speriamo che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo di passare In descrizione Che trovate Il canale di Morduk Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto E niente Lasciate un bel like Un bel commento Anche consigliandoci I prossimi minigame E ci vediamo In un prossimo video Al prossimo Da pezzo È Morduk Tutto Ciao A tutti Ciao